15 dicembre 1978, non soffermiamoci troppo che sono tipo 40 anni fa, quest'anno usciva nelle sale cinematografiche un film che poi ha dato il via a un bel filone cinematografico chiamato cinecomic, sto parlando del film superman che poi fu ribattizzato in america superman the movie per i lenti di comprendonio e questo dia del via tutta una serie di cinecomic successivi che hanno portato al giorno d'oggi a quelli che vediamo noi della marvel e oggi sono qua un po' a parlarvi di questa vicenda, dato che comunque è stato un capostipite di film dettato comunque da un supereroe che è anche diciamo il capo dei supereroi della DC, in ogni caso rimanete a vedere questo video se siete interessati, ciao sono Captain Nerd e bentornati su Chuck e azione. Ai tempi il termine cinecomic non era ancora stato coniato e i supereroi con le loro avventure erano relegati in un ambito strettamente legato all'infanzia, roba per ragazzini insomma, eravamo ancora lontani dai film sul tema ad altissimo budget in cui siamo abituati al giorno d'oggi, quindi rischiare su un tizio in tutina blu e mutande rosse calzate sopra i pantaloni poteva sembrare un azzardo. Prima del 78 le uniche forme di supereroi in film e serie che avevamo già rivisto furono state qualcosa riguardo al Batman del grandissimo Adam West, le sue fantastiche gag e onomatopee, anche qualcosina riguardo a Capitan America e anche roba legata sempre all'uomo d'acciaio, ricordiamo il nostro George Reeves. I diritti su Superman furono acquistati nel 74 da Ilya Selking, produttore di origini messicane e si è dedicata a raccontare quasi esclusivamente le gesta dell'uomo d'acciaio. La paura del tradimento del loro personaggio di punta è stata almeno all'inizio più forte della voglia di vederlo trasposto al cinema. Selking pretese per il film su cui aveva investito tempo e denaro uno sceneggiatore di punta. Difatti fu scelto Mario Puzzo, diventato noto ai più per il libro Il padrino e l'omonima sceneggiatura del film diretto da Francis Coppola. Per quanto riguarda la regia fu scelto invece Richard Donner, grandissimo regista che lo ricorderemo bene per Lady Oak, Igunis e Arma Letale. Quindi diciamo lo sceneggiatore c'era, il regista c'era, mancavano soltanto gli attori. Quando si parla di Superman tutti si ricordano di Christopher Reeve, pochi riescono invece a ricordarsi chi vestisse i panni di Jor-El, il padre del supereroe che lo spiedì nello spazio per salvarlo dalla distruzione del proprio pianeta natale, un po' perché il personaggio è in scena per pochi minuti, un po' perché la storia di Reeve ha tenuto banco per tutti gli anni a seguire. In ogni caso, a interpretare Jor-El fu chiamato niente di meno di Marlon Brando. Esatto, il grande attore dall'ego enorme, quello con cui era impossibile lavorare. Il nostro Brando trattò e riuscì ad avere un compenso faraonico nonostante i pochi minuti in cui stava sul set. E di fatti questo passerà alla storia come il compenso più grande, il record, che un attore abbia avuto per una parte minuscola in un film. E riagganciandomi al discorso precedente, prima del 78 vi erano comunque stati altri prodotti a tema supereroistico, però diciamo che avevano un che di macchettistico e parodistico, quindi diciamo erano un po' differenti dallo stile che voleva dare Donner alla sua pellicola. Infatti volevano un tema un po' più serio, un film che avesse un inizio, uno svolgimento, una fine, una sorta di trama un pochino più con una narrazione seriosa invece che parodistica. Un prodotto senza personaggi caricaturali, senza più gag comiche, a ripetizione, ma un nuovo corso fatto di attenzione al dettaglio, cura degli effetti speciali, investimenti considerevoli e quindi un prodotto adatto a un pubblico più ampio possibile. La struttura del lungometraggio, di fatti, era diviso in tre parti. L'arrivo sulla terra è l'infanzia, l'età adulta è il piano di Luthor e lo scontro finale, racchiude il primo esempio di backstory e il percorso dell'eroe, entrambi raccontati al meglio. Dico primo perché in ogni film sulle origini di un supereroe o di una saga che poi andrà a proseguire, ci sono un po' sempre le stesse cose che poi sono venute un po' a noia. Infatti, come se vi ricordate bene, anche nel primo The Amazing Spider-Man viene un po' sorvolata alcune parti dell'origine di quello che è Peter Parker e della sua sofferenza, come anche nell'Uomo d'Acciaio che tratta un Superman già avanti, facendoci vedere attraverso dei flashback un po' le sue origini senza starci a tornare sempre sopra. Oppure anche il Batman di Ben Affleck, che già è stato inserita abbastanza male, viene un po' saltata la parte dei genitori che muoiono nel vicolo, roba vista e rivista nei vari Batman. Però questo era il capossipite, quindi si può permettere di raccontare la storia per silo e per segno dall'inizio alla fine, quindi è tanto di cappella. Sicuramente, dato tutti i privilegi e i complimenti che sto facendo a questo film, c'è chi obietterà che Tim Burton, dieci anni dopo, ha diretto un grande Batman. Ed è vero, sono d'accordo, ma il suo Batman non è certo paragonabile a questo lungometraggio di Christopher Reeve. Questo film sul Cavaliere Oscuro ha un tono un po' più dark, un po' più basato sui costumi, su una Gotham piena di crimine, pittoresca e quindi ha dei colori totalmente diversi. Quindi, nonostante abbia una regia molto bella, non è paragonabile al film su Superman, che ha un tono completamente diverso. A mio parere, anche migliore, poi sono gusti. Poi, ovviamente, nonostante questo film abbia fatto anche un discreto successo, ci sono stati anche dei sequel. Il secondo, che credo sia l'apice di questa saga, perché purtroppo il terzo e il quarto sono stato un escalation dell'insuccesso per quanto riguarda questa quadrilogia con protagonista Christopher Reeve. I primi due, comunque, sono capolavoro di quegli anni. Io, comunque, vi ringrazio per aver seguito questo video. Spero che abbiate apprezzato ciò di cui vi ho parlato. In ogni caso, se avete qualcosa da dire, scrivetemelo nei commenti. Vi chiedo di seguirmi su Instagram e Facebook e di iscrivervi al nostro canale su YouTube, cliccando anche sulla campanella, che è sempre una cosa importantissima. E da Captain Nerd, qui oggi è tutto. E noi ci vediamo presto a un prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi!